Non serviva un campo per giocare a calcio, bastava un pallone. Ci si trovava in campetti irregolari, senza righe, spesso di cemento o di terra. Bastava avere un po' di spazio. Ci si arrangiava così, con porte disegnate sui muri o improvvisate con le giacche. I palloni finivano nella casa di fronte, sotto le auto, precipitavano lungo i pendii. Non c'erano i 90 minuti, il recupero, i falli. Si giocava fino allo sfinimento. C'è chi ha iniziato a giocare per strada, chi in un cortile e chi da solo contro una parete. Bastava poco. Io mi allenavo con mio papà, in un piccolo oratorio, un campetto con un altro, dietro casa. Non mi è mai bastato. C'è chi ha iniziato a giocare per strada, chi ha iniziato a giocare per strada, chi ha iniziato a giocare per strada. Grazie. Grazie.